In questo video sfrutterai la potenza di ChatGPT personalizzando in tutto quello che ti serve il fantastico strumento che ci mette a disposizione OpenAI Perché? Perché nella presentazione del 6 novembre, questa che stai vedendo, il mondo cambia in quanto l'intelligenza artificiale più famosa al mondo ChatGPT da modello generico diventa modello personalizzato per te, per il tuo business, per la tua impresa insomma per poterlo sfruttare ancora meglio Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio come configurarlo ma resta fino alla fine, ti faccio una promessa, ti sconvolgo perché ti regalo 10.000 ChatGPTs la S che fa la differenza, la S di Superman te li regalo completamente gratuiti con una base dati incredibile ma aspetta, andiamo per ordine vediamo che cosa sono questi ChatGPTs e te lo faccio vedere ti leggo insomma solo alcune righe, ti mostro la pagina ma in pratica sono dei modelli di intelligenza artificiale che puoi configurare proprio come serve a te in base per esempio alla tua base non lo so, di dati aziendali alle esigenze che hai nella tua quotidiana il tuo catalogo di prodotti o servizi o quello che ti serve in pratica te lo faccio, ti leggo insomma una traduzione veloce che riassume un po' quello che ho detto è ora possibile creare versioni personalizzate di ChatGPT senza ricorrere al codice, è una configurazione fantastica te la faccio vedere fra un secondo queste versioni personalizzate di ChatGPT combinano istruzioni knowledge vuol dire anche più conoscenza appunto conoscenze extra, gli approfondimenti e quelle che sono invece diciamo delle altre abilità andiamo a vedere come si fa così ciancio alle bande, bando alle ciance questa è la nuova versione di ChatGPT probabilmente la conoscerai che cosa è che è cambiato come vedi il modello di intelligenza artificiale adesso non è più presente non serve più switchare tra l'account di Dally2 e quello di ChatGPT i plugin sono sempre integrati insomma un po' di evoluzioni ma la cosa importante è questa qui che una volta che fai scorrere il pannello laterale puoi accedere alla versione Esplora è una versione beta quindi assicurati che nelle tue impostazioni le impostazioni beta siano ben configurate e adesso ti faccio vedere che c'è anche un profilo che puoi personalizzare perché sì, a breve e adesso ti dirò quando con questi custom ChatGPT non solo puoi svoltare la tua quotidianità ma puoi anche fare dei soldini prima di addentrarci in questo mondo permettimi tre secondi perché lo so a te piacciono il mondo delle automazioni allora iscriviti gratis alla nostra newsletter automaticin.com slash gratis ti iscrivi e ti becchi ogni settimana ben tre strumenti che ti aiutano a mettere il pilota automatico al tuo business a gratis bell'accordo e sempre a gratis vi andiamo a vedere perché il tutorial è completamente gratuito per accedere invece a queste potenze serve la versione plus di ChatGPT ma andiamo nella versione nuova quella che tu hai anticipato che si chiama Explore ora vedrai che c'è questa voce Crea o Create e ChatGPT o GPT ed è una versione beta come ti ho detto devi andare nelle impostazioni qui e devi attivare le funzionalità beta assicurati di averlo fatto e devi eventualmente configurare altri dati soprattutto il tuo profilo che come ti ho accennato ti servirà caso mai tu voglia fare soldini voglia vendere i tuoi custom GPTs andiamo quando sarà possibile farlo te lo faccio vedere fra un secondo andiamo sulla versione sulla voce Create e si apparirà una dashboard divisa in due nella parte sinistra dello schermo ovvero questa qui c'è un ChatGPT integrato che ti aiuta a costruire il bot è un bot di intelligenza artificiale che ti aiuta a costruire un bot di intelligenza artificiale personalizzato per te è tutto nella parte sinistra è funzione normale ci scrivi e fai quello che ci devi fare ad esempio in questo caso è Crea un bot qui ti dice le istruzioni dice per esempio aiutami a creare un bot ciao ti aiuto a creare un ChatGPT puoi dire qualche cosa del tipo crea un creativo un po' brutto in italiano insomma una versione no qualcuno che ti aiuta nella parte di creatività oppure qualcuno che ti aiuti con la parte informatica in questo caso crea un bot che mi aiuti a mettere il pilota automatico al mio business qui possiamo andare a aggiungere un bot potrebbe essere esperto di AI e marketing automation ti aiuto ti consiglio una frase con 30 anni di esperienza questa frase un po' generica aiuta a non darti nel prompt molto semplice insomma cose didattiche ti aiuta a non farti ridare risposte sempliciotte ti aiuta a dare insomma informazioni un po' più strutturate quindi crea un bot di AI e marketing automation automatico potrebbe essere con 30 anni di esperienza che mi aiuti a mettere il pilota automatico al mio business e qui una volta che darai invio mi nascondo ti semplicemente il software costruirà come avesse fatto una ricerca normale tra parentesi nella nuova versione le ricerche con Bing sono integrate quello che puoi fare semplicemente è lui avendogli dato un prompt ti creerà la tua intelligenza artificiale personalizzata ti faccio vedere fra un secondo il frutto il risultato di quello che hai creato ti anticipo che nella parte di preview nella parte destra dello schermo invece potrai testare il bot e poi andarlo a modificare di volta in volta e quindi dargli delle istruzioni ma in modo live testare il bot ok lui adesso ti dice ok guarda il lavoro che ho fatto vedi ho fatto questo ho fatto questo ho fatto questo vedi se ti piace e vedi che la parte di destra adesso si è popolata non è più un foglio di preview bianco ma c'è la descrizione esperto in AI e marketing automatico con 30 anni di esperienza quindi ti ha dato la descrizione del bot che lui stesso si è creato in più ti ha dato delle frasi di apertura gli startner questi starter ti permettono appunto di iniziare la chat puoi scrivergli qualsiasi cosa è ma ti permettono di iniziare la chat con il tuo bot personalizzato ma due cose la prima è veramente personalizzato fino in questo momento proprio no la seconda molto più importante come puoi andare a personalizzare le istruzioni per renderlo personalizzato perdonami il gioco di parole ma fra un secondo te lo faccio capire perché nella parte sinistra dove abbiamo utilizzato il bot vedi che c'è la versione create e poi c'è un pulsantino che si chiama configura la versione configura è la versione avanzata ma in realtà è facilissima che ti permette di andare a configurare nel dettaglio il tuo prompt e soprattutto di aggiungere la tua base dati aspetta partiamo dalle basi la prima cosa che possiamo dare è un nome questo qua AutomatiBot lo andiamo a chiamare ok il bot di AutomatiKing andiamo a aggiungere una foto che possiamo caricare o possiamo andare a premere lo su produzione Dalli2 in automatico chat cpt passerà il prompt al generatore di immagini Dalli2 della proprietà di OpenAI se non sai che cos'è in alto in descrizione ti lascio un tutorial approfondito di Dalli2 e ti faccio vedere che fra un secondo l'immagine non l'hai dovuta caricare ma te la sta creando in maniera customizzata in maniera personalizzata sulla base di quello che fa appunto il nostro robot che è molto futuristico devo dire qui hai la possibilità di andare a personalizzare la descrizione di questo bot qui hai le istruzioni vere e proprie il tuo GPT è un esperto in intelligenza artificiale e marketing automatico con 30 anni di esperienza la sua missione è aiutare gli utenti a implementare qui avremmo potuto specificare che utenti avremmo potuto dire come ok è un esempio gli utenti a implementare strategie di marketing automatizzate per il loro business fornendo consigli esperti vedi 30 anni di esperienza analisi di tendenza e antitendenza e soluzioni innovative è in grado di comprendere e suggerire strategie di marketing digitale ottimizzare l'ottimizzazione dei processi e implementazioni di tecnologie AI dovrà evitare di fornire consulenze legali o finanziarie specifiche e non potrà gestire direttamente gli aspetti operativi del business dell'utente programmato per chiedere chiarimenti se necessario quindi ti fa l'approfondimento e si presenta con un tono professionale ma accessibile personalizzando le risposte in base alle esigenze specifiche dell'utente e questo è quello che è andato ad aggiungere lui qui evidentemente noi possiamo aggiungere altre cose per esempio possiamo dire un esperto in intelligenza artificiale nella parte di create ok ora potremmo dirgli il tuo pubblico di riferimento sono le PMI italiane ok lui nel momento in cui vado a dare un ok che cosa sta andando a fare adesso ti faccio vedere perché è importante questa cosa sta andando a modificare il prompt cioè ti sta aiutando a fare quello che avresti potuto fare tu a manina nell'aggiornare il prompt stesso l'avresti potuto fare tu a manina oppure gli hai scritto un'istruzione lui che sta facendo sta prendendo le informazioni che ti ha scritto e le sta adattando proprio come una chat conversazionale normale in chat cpt le sta adattando alle tue necessità quindi adesso quello che noi troveremo in create evidentemente è una versione che è aggiornata ma ha modificato anche finisci di scrivere la versione con figure quindi andiamo a vedere magari che cosa ha aggiunto vedi ha aggiunto magari la parte chiederai chiarimenti e pratica per le pmi ok non te lo rileggo tutto il concetto l'hai capito lo puoi modificare tu a mano scrivendo ciao puoi personalizzare quindi il nome l'immagine la descrizione il prompt che è la cosa più importante le aperture quelle che vedi qua come posso migliorare il marketing della mia pmi con le ai ok questa la potremmo possiamo cambiarlo come analizzare i dati dei miei clienti possiamo aggiungere come posso automatizzare la mia quotidianità aggiungo proprio cose a caso attenzione a questo passaggio fino adesso qual è la vera differenza con le chat di prima si cambia un po' l'interfaccia cambia che ci puoi cliccare sopra c'è il loghetto e te lo puoi richiamare in qualsiasi momento te lo faccio vedere per un secondo ma di base che gli stai dando della tua quotidianità della tua per esempio se io gli volessi fornire il mio catalogo prodotti e volessi che questo chatbot invece di essere così generico mi aiutasse a creare le risposte per i miei utenti quindi devo fare un preventivo io gli carico il mio catalogo prodotti o servizi e voglio che questo assistente virtuale sempre personalizzato sui dati dei miei prodotti e servizi mi aiuta a scrivere i preventivi come lo faccio e lo faccio aggiungendo aspetta che mi nascondo un file uno o più file perché nella presentazione del 6 novembre la cosa più importante è che facciamola facile è aumentata l'intelligenza dell'intelligenza artificiale cioè è in grado di gestire più pagine quindi gli puoi dare pdf belli corposi lui li studierà e risponderà sulla base delle informazioni che lui ha in possesso come intelligenza artificiale come ha sempre fatto ma anche sulla base dei dati che tu gli hai caricato i dati tuoi della tua azienda i tuoi dati per esempio finanziari i tuoi dati di gestione i tuoi dati dei clienti il tuo prodotto servizio di punta le caratteristiche tutto personalizzato ma non è finita in questo video adesso ti faccio insomma per esigenze di velocità e di brevità ti dico che basta fare a caricare il file ed è fatta puoi attivare in automatico la funzione di web browsing puoi attivare in automatico nella stessa chat la funzione di gialli 2 e anche quella di interpretazione del codice come al solito se vai su queste i in realtà qui c'è proprio un punto interrogativo ma in realtà anche qui se vado sulla voce instruction ti dice qual è diciamo la finalità di questo testo in un video dettagliato se vuoi puoi creare anche le azioni sono integrazioni un po' più avanzate se ti interessa questa cosa me lo fai sapere nei commenti me lo fai sapere nei commenti e io faccio un video specifico in generale se non l'hai ancora fatto a prescindere io ti sfido se questo video raggiunge 100 iscritti ti pubblico il video che ti ho promesso anche se tu non me lo chiedi nei commenti ovvero il pubblico in cui andiamo ad approfondire le automazioni avanzate che si possono fare con il tuo custom chat GPT ed è una figata ma andiamo a noi torniamo alla chat in questo momento abbiamo il nostro chat GPT lo possiamo salvare vedi che qui inizia un'altra cosetta interessante perché chi lo può vedere è una cosa che posso vedere solo io quindi immagina che ti hai caricato dati sensibili della tua azienda non vuoi che vada a finire altrove questo altrove lo vediamo fra un secondo quindi lo metti privato oppure solo le persone con un link ah ah collaboratori collaboratrici team in remoto in azienda persone di tua fiducia ah ah gli puoi passare il link e le persone incorporeranno nel loro chat GPT il tuo GPTs e lo faranno lavorare sulla base dei dati che tu gli hai fornito ad esempio la tua rete commerciale figata lo so ma 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 non è ancora finita la cosa più importante potrebbe essere anche pubblico io in questo caso lo faccio privato perché veramente sviluppato malissimo l'ho fatto a scopi didattici in 30 secondi in questo momento ho il mio automatic bot disponibile se torno nella voce esplora troverò la nuova possibilità di creare un chat GPTs o un custom GPT se li puoi chiamare come quei tu un quello che oggi ho creato ne ho fatti alcuni alcuni li ho importati alcuni li ho creati io alcuni ci sto un po' giocando come è giusto che sia questo è un account demo la cosa importante è che questi chat GPTs saranno possibilmente nel futuro in realtà si era detto a fine 2023 ora si è detto ad inizio 2024 fatto sta che OpenAI lancerà un marketplace ovvero un posto esatto con dei chat GPTs già creati gratuito o a pagamento in cui potrai scaricare tipo le app del tuo cellulare uguale potrai scaricare il tuo o quelli che ti interessano i GPTs già pronti molto interessante come opportunità di guadagno ed ecco perché ti serve configurare bene il tuo profilo molto interessante anche la tempistica e non so piccolo dietro le quinte non so se sai che c'è stata un po' di maretta verso gli inizi di diciamo metà di novembre del 2023 c'è stata un po' di maretta in casa OpenAI dopo la presentazione a distanza di una settimana Sam Altman il CEO quello insomma il nuovo Steve Jobs tutti lo acclemavano come il re dell'intelligenza artificiale una persona intelligente che fa anche un tipo di divulgazione intelligente è stato mandato fuori da OpenAI fatto fuori così motivo si è inizialmente detto che ci sono stati problemi con fuga di informazione e di dati in realtà si pensa che ci sia invece due correnti di pensiero il board direttivo che voglia andare piano e stare sul sicuro Sam Altman invece che voglia spingere verso la creazione di agenti di intelligenza artificiale che roba è dei robot che invece di poter solo scrivere possono compiere azioni cioè possono fare un passettino in più tu gli dici tipo Siri un po' più evoluto va bene in realtà anche meglio tra parentesi se Proviso di Siri è stata presentata sempre nella presentazione del 6 novembre la possibilità di parlare con il chat CPT ma lui ti risponde parlando all'interno della tua app da cellulare sia per Android che per iOS ma torniamo a noi Sam Altman fatto fuori non si capisce bene il perché a un certo punto lo seguono firmono una lettera tipo 700 dipendenti dei 750 700 firmono una lettera dicendo io se Sam se ne va lo seguo dove lo seguo nel frattempo Microsoft si è mossa con una dichiarazione dicendo ragazzi questa è casa vostra Microsoft che ha messo qualche miliardo di euro nello sviluppare c'è CPT le tecnologie di OpenAI e le sta integrando nel proprio sistema Copilot ne abbiamo parlato su questo canale ti lascio il video in alto in descrizione insomma si stanno muovendo un po' i poteri ad un certo punto Microsoft dice se volete ragazzi qui c'è casa vostra anzi ti crea un dipartimento specifico per fare un laboratorio di sperimentazione bla 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 OpenAI torna un po' così si passi perché praticamente l'azienda era chiusa e quindi hanno detto ok ragazzi fammo che abbiamo scherzato tornate qui tutto a posto e quindi questo ha probabilmente marette questa differenza di vedute molto probabilmente nessuno lo sa molto probabilmente è il motivo in cui si è slittata da fine 2023 a inizio 2024 nel rilascio del marketplace dietro le quinte di tutto questo però io ti ho fatto una promessa tu ti sei iscritto a questo canale così se raggiungiamo insomma i 100 iscritti ti faccio il video di approfondimento per le azioni che sono una figata incredibile ma io ti ho fatto un'altra promessa ti ho detto che alla fine di questo video avresti trovato ben 10.000 GPTs già pronti che puoi incamerare nel tuo nel tuo ccpt senza pagare gratis e allora te lo faccio vedere ti lascio tutti i link in descrizione questo è gtp dex come se fosse gpt's dex come l'index e qui ci sono praticamente li puoi vedere tutti quanti puoi vedere quelli che sono maggiormente in trending quelli che sono nuovi puoi andare a filtrare un pochettino per le diverse funzionalità e qui puoi andare a capire qui ci sono ccpt già pronti per esempio questo e ne hai con doppia personalizzata uno standard gpt's e uno non diciamo non ristretto senza limitazioni che altro andiamo a vedere i simpson ok samurai south park insomma molte cose devo dire giocose c'è comunque anche la categoria personaggi la categoria prompt engineering coding game design produttività andiamo a vedere in una sezione produttività che cosa c'è ce ne sono un bel po' sono oltre 10.000 come incorporarle semplicemente ci vai qui fai try it out si apre e ce l'hai praticamente disponibile all'interno del tuo account normale l'hai praticamente incorporato ok adesso se io vado nella versione esplora dovrei trovarlo nell'ultimo elenco in realtà non ha completato la configurazione ma voglio dire non so bene perché normalmente si è sempre importato ma voglio dire il bello della diretta non è quello il senso il senso è che qui dentro hai 10.000 e più completamente gratuito ci tengo a sottolineare perché non c'è ancora il marketplace quindi vatti a cercare insomma a cercare quello che ti serve prima che lo attivino se hai visto mai e hai 10.000 CACPTs già pronti all'uso che poi vorrai se vorrai potrai personalizzare in base alle tue esigenze che dirti io mi sento soddisfatto questa è un'innovazione che cambia la vita se non sai ancora bene come sfruttare nella tua quotidianità l'intelligenza artificiale bene io ti lascio proprio al tutorial di CACPT4 che ti lascerà a cercare con la mutabilità però sì sì